E' il re lo si chiama The Figaro Votum. E' l'ultimo? Si. E' completato Joe, il panel pack. No, il tempo fa il time. Please respond, 0259. Tu sei solo in me. Non è sicuro di quanto tempo si resta insieme. I gli occhi sono spazzati comunque. Ho bisogno di prenderti lì, lieutenant. Sir. Non vuoi ascoltarlo. Prendi il passaggio per l'automo. Done. Non ancora non. Perfetto eh. Emil, vai con lui. E' un gioco di gioco ora. E' stato un onore, sir. Inoltre. Faccio ciò che posso per prendere il loro foglio. SIX. L'AI scelte te. Lei ha fatto la giusta giusta. Con la mia marca. Mark! Fire. O. L'Avito. C'è Spituolo. C'è Spituolo. Qu'è il gioco? Allora, solo a riavviare quella palla. Ciao, Voto. Sì, vado a riavviarla. Stai con noi, Commander? Stai con noi, Commander? Stai con noi. Stai con noi, Commander. Stai con noi, Commander. Stai con noi, Commander. Stai con noi. No? Eh... Arriva da una cosa fortissima. Guarda come salta! Come rotola! A me sta cosa mi piace. Dopo che lanci le granate, i nemici rotolano, se le vedono. Gli elite più che altro. Gli altri... ...fanno poi cagare. Sai cosa devi fare? ... 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 Sì, non puoi, ora senza aiuto Commander, non hai la potenza di fuoco, lo gamassa E via Ma il team si chiama Nobel per un motivo? Che va se si muovono troppo sti cosi per i fucini? Sono degli altri Oh cazzo Andrà a morire Però il giacca con gli scudini sugli avambracci sono strozzissimi Beh, Captain Keys Eh sì Quelle due scudini sono dei figli di put***e, eh? Pulto! Che va se si muovono troppo sti cosi per i fucini? Sì 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 Sì! Abbiamo l'accento di tutto l'interno. Ci saranno il foglio e fare il flanque. Ci sono bisogno di aver guardato. Siamo trovati. Siamo guardati. Siamo guardati. Non metti tutto dentro Cazzo Mi hanno rubato a mia volta il Il nostro Ecco qua No, perché io lo scudo non ho più la gossa Aaaaaah Eccasso, stai andando io Oh la bomba ne vuoi oh no c'è 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 occhio che sono alta posto posto veramente infelice mi ha un asciuttato mi ha un asciuttato devi puttana io finalmente ho la forza di nuovo bomba nella schiena si risolve tutto ok ho tutto nella schiena si risolve tutto oh no vedo stronti con la spada oh no ok 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 clip clop non è facile C'è stato un po' di questa merda via i nemici? Sì, siamo pronti. Capito. Il mio Pelican è pronto. Certo in LZ. Ci vediamoci. Oh! 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 Ho fatto polizia! Grazie! Ah! Che sono! No, la granata! Oh! 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 onun testa! No! Oh! Oh! Ce scnhè? No! Ah! Ah! Ok, eh? Grazie a tutti. 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 Dove sono i nastri questi? Forse ho ammazzato un sacco di scignoni. Scinto il martello. Forse li ho ammazzati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rich, questo è il capitano. Grazie a tutti. 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 Divertite a tutti. Ah no, non si sono entrato io. Io ammazzati. con le penshi. Con le penshi. Lo spartan laser. a tutti. No, non si sono entrato. non si sono entrato. No, 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 non si sono entrato. Questo è il Pillar of Autumn. Siamo fuori. Il packaging è con noi. Sì, ma l'amico Cecchino Pelazzo provi su Tor? Eh, lui è andato con la osso e mi sembra che lui è quello che si salva.